L'editoriale di Carlo Nesti, facciamo un riferimento abbastanza accurato, pregnante, speculare tra quella che era la Juventus del 70, chiaramente con un ammontare economico ben più alto, con una possibilità di spendere maggiore, ma comunque con una mentalità similare. Fondamentalmente quella era la Juventus di Boniperti a Lodi e comunque ripartiva da Landini, Spinosi, Capello e Bettega. Questa Juventus sicuramente non ha la stessa potenzialità economica perché fondamentalmente c'erano le problematiche legate al caso Ronaldo, al Covid e certamente al caso Plus Valencia. Quindi ci sono state situazioni abbastanza complicate che hanno un pochettino rallentato quello che era lo smalto della Juventus di un tempo. Attualmente giunto di sbravati Pompilio, questa nuova dirigente sta facendo un lavoro capillare anche con un aiuto un pochettino spiccato della Next Gen. Nel senso che questi giovani che alcuni verranno aggregati alla prima squadra per dare una mano alla squadra futura per questa crescita di questi giovani e un po' cercare di ridestare lo smalto in prospettiva futura dell'emblema Juventus. Ed altri sicuramente andranno sul mercato per generare dei ricavi da poi rinvestire per altri giocatori. Sicuramente è una squadra che parte da un buon portiere che è di Gregorio, un portiere abbastanza forte con i piedi ma anche altrettanto forte nei pali considerato che è stato uno dei migliori 5 del nostro campionato. E anche uno dei migliori tra l'altro in Europa. Sicuramente rafforzare e dare un po' più di qualità alla difesa, chiaramente con un giocatore che sappia giocare con i piedi che appunto dia una mano a Bremer. E' saltato Calafiori per delle cifre astronomiche, la Juventus è un giocatore che abbia una certa qualità in prospettiva, non solo nei contrasti ma che si abbia riavviare l'azione, per quello che è il credo tattico di Tiago Motta. Sicuramente un centrocampo, tre posti, un restyling completo da Douglas Luiz, anche a friend to run, giocatori che qualitativamente volti a una prospettiva, ad una crescita che avviene nel gioco. Molto molto bravi, quindi all'avvio dell'azione, contrastano, ripartono, quindi accellano in qualità, lancio lungo sicuramente anche in inserimento. Il terzo nome è da scegliere fra Coppomaia, salquanto complicato per le cifre astronomiche. La Juve vuole arrivare a 45, già parlano di 60 milioni di euro l'Atalanta, abbastanza complicato ma ripeto, si cerca la giusta quadra. E sicuramente una situazione legata a Rabiù alquanto complicata, perché ormai Rabiù è andato già in scadenza di contratto, 7 e mezzo all'anno. Sicuramente è un parametro Juve che non regge. E appena la Juventus avrà piazzato Chiesa, presumibilmente, non lo so, Napoli, Roma, questa è una delle valutazioni che farà il giocatore e la società di riferimento. O all'estero, sicuramente la Juventus si fionderà su Sancho, si parla di 5 milioni di euro. E' un Trento riscatto, è una Juventus che si sta muovendo in modo abbastanza rapido, repentino, speculare e particoleggiato. Aspettiamo la Juventus di Giuntoli, sbravate Pompilio.